Un nuovo strumento che completa il grande investimento tecnologico fatto dall'azienda sanitaria per il reparto di radioterapia e oncologia di Arezzo. Un compressore addominale per eseguire analisi radioterapiche millimetriche. La donazione curata dal Calcit è frutto dell'impegno di uno sportivo di successo, il pilota di moto fuoristrada che più volte ha corso la Parigi Dakar, Gabriele Minelli, del team For Fun e dell'azienda M2 Marmi. Siamo sempre ormai partner con il Calcit e abbiamo fatto il possibile fino al riuscimento della donazione per intero. È sempre un onore partecipare a queste manifestazioni che organizzano loro e noi siamo sempre presenti, anzi invitiamo anche l'altra gente, anche altri sportivi a fare lo stesso, insomma anche per la nostra città che in questo momento ha tanto bisogno. Sì, ecco noi come associazione sportiva, con la collaborazione dei nostri sponsor che abbiamo, una parte la doniamo sempre per fare del bene, specialmente con il Calcit oramai è una collaborazione più che decennale per il centro oncologico migliorare la situazione dei pazienti aretini. In questo periodo di pandemia ovviamente non potendo fare tante iniziative, diciamo che delle entrate sono diminuite, perciò in qualche occasione come in questa abbiamo sollecitato alcuni imprenditori della città che devo dire che anche in altre occasioni hanno risposto alla grande. In questo caso ne abbiamo parlato con Gabriele Minelli che non ci ha fatto finire di parlare, abbiamo immediatamente fatto l'ordine, tant'è vero che lo strumento è già attivo qui presso la radioterapia dell'ospedale San Donato di Arezzo. Abbiamo fatto un grande rinnovamento tecnologico su Arezzo con il nuovo acceleratore lineare e abbiamo speso oltre un milione di euro. Poi però per poterlo usare al meglio delle sue prestazioni siamo accorti che ci mancava qualcosa. Questo qualcosa era un dispositivo di mobilizzazione molto preciso che permettesse anche di bloccare le escursioni diaframmatiche dei pazienti nel corso del trattamento e questo attrezzo ci permette di fare una radioterapia di massima precisione sia all'addome sia al torace perché i movimenti respiratori vengono minimizzati. Quindi noi possiamo irradiare con margini millimetrici sia lesioni del fegato, del polmone che prima eravamo un po' in difficoltà a trattare adeguatamente. Quindi un avanzamento molto importante e una donazione molto sollecitata devo dire da me e molto gradita che ci fa fare un ulteriore salto di qualità per il trattamento radiante dei nostri carissimi pazienti aretini.